Si riguarda quali persone della famiglia? Si sono costituite parti civili i prossimi congiunti della vittima, quindi il fratello, la moglie, la figlia e la mamma. Non Sergio al momento? No, non Sergio Salvagno per questioni a momento di opportunità, diciamo così. Che tipo di risarcimento pensate di chiedere o avete chiesto? Per quanto riguarda i prossimi congiunti, il risarcimento complessivo è stato già calcolato e ammonta l'incidità sugli 800.000 euro, mentre per la vittima primaria verrà conteggiato poi in un secondo momento e quindi al momento non posso dirvi esattamente quanto morterà. Comunque parliamo di cifre sicuramente importanti perché c'è un danno enorme, insomma, quindi è un macrolezzo, quindi c'è un'aperizia con un danno biologico molto elevato. Cosa ne pensa di questo memoriale che hanno presentato oggi i suoi edifici? Hanno presentato delle osservazioni di parte, quindi erano considerazioni degli imputati o del signor McInnes che però il mio giudice non ha accolto, quindi diciamo che non hanno rilevanza al momento per il processo penale. Grazie mille, allucato.